A mamma e papà basta uno sguardo per capire che il loro piccolo non sta bene, ha la febbre, e stasera devono scegliere se dargli una medicina o qualcosa da mangiare. Per chi è povero, anche la salute è un lusso. Banco Farmaceutico raccoglie farmaci per donarli a 2000 enti e associazioni che aiutano chi da solo non ce la fa, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. Dal 6 al 12 febbraio vieni in farmacia e dona un farmaco per chi ha bisogno. Grazie a tutti.